Viva il Duce, si legge sul centralissimo Palazzo Corallini in corso del popolo. Filottrano si è svegliata così, dopo il raid vandalico a colpi di bombolette spray in pieno centro storico. Sbastiche disegnate con spray nero sulle pareti, purtroppo in vista i luoghi di passaggio nel via vai frenetico di questi giorni di festa. Ed è percorrendo la scalinata principale del paese che ci si imbatte nei segni lasciati dai vandali, che non hanno risparmiato nemmeno il monumento ai caduti di Filottrano. È una ferita al cuore per la città di Filottrano, per la memoria. Io mi riferisco al monumento dei caduti di tutte le guerre che narra e che ricorda la storia di coloro e tutti coloro che hanno contribuito a restituire a Filottrano e tutta l'Italia la libertà. Ed è sul simbolo per eccellenza dei caduti della seconda guerra mondiale che i colpi di bomboletta all'odio fanno più male. Una pagina nera della storia d'Italia torna attualissima tra le vie del centro di Filottrano. È una cosa vergognosa. È sbagliato. Ho dei ragazzini che fanno tutto quello che pare. Sono pazzi. Per me sono pazzi. Solamente un pazzo fa cose cose. Però sono tutti ragazzi. Tutti ragazzi sono. Il comune ha contattato una ditta specializzata che presto si occuperà della ripulitura. Ma non è il primo episodio in paese. Al lavoro ci sono le forze dell'ordine per individuare i colpevoli. Sono in contatto con i carabinieri. Ci sono le indagini in corso. Hanno raccolto tutte le immagini che era possibile raccogliere. E quindi cercheremo con tutta la forza di individuare chi si è reso autore e responsabile di questo gesto.